Palazzo Comitini, tornate a riunirvi come consulta regionale giovanile, facciamo il punto. Sì, mi viene in mente di fare una citazione di Don Luigi Verzè, tutto è possibile a chi crede. Finalmente, dopo tanti anni, ci abbiamo creduto e si è instaurato un ottimo rapporto fra giovani e il mondo della politica. Mesi fa all'Arze è stato votato all'unanimità da tutti i deputati parlamentari siciliani, il nostro DDL, e quindi appunto si è creata la prima consulta regionale giovanile. I prossimi obiettivi nostri saranno di incentivare le politiche locali di tutte e nove province siciliane, ma non è finita perché praticamente oltre a dedicarci alla nostra terra, alla nostra amata Sicilia, con l'impegno attualmente in carica del Presidente Magistro, giorno 20 ci sarà la votazione del nuovo Presidente della consulta giovanile. Quindi con Magistro andremo e svolgeremo altri appuntamenti anche internazionali. Giusto dare la carica, lo sprint a questi ragazzi che stanno impagnandosi alla grande. Andiamo avanti, è soltanto l'inizio del raggiungimento di un grande obiettivo.